Linda? Linda sveglia? Andiamo da Babbo Natale? Sveglia? Dai che andiamo da Babbo Natale? Mi hai fatto spaventare, ero chiusa qua in cabina armare e mi sono ingirata e ti ho vista lì. Buongiorno! Sei contenta? Vai a lavarti, eh? Che la mamma si prepara, andiamo, ok? Vai! Che c'è Babbo Natale? Che ci sta aspettando? Vai! Ti stai facendo bella per Babbo Natale? Come no? Per chi? Per me? No, c'è della brosetta. Anch'io tantissimo, adesso metti un po' del mio burro cacao, questo, poco poco, ok? Sei contenta? Sei emozionata? Fatti vedere. Sei bella, amore, brava, bella calda, bravissima. Bella calda. Eh, sono vestiti caldi. Eccoci pronti per la prima avventura di questa giornata, cioè colazione con i nostri amici e poi si parte. Ma quanto siete emozionate? 40 minuti. 40 minuti di strada, sì, amore. Quanto siete emozionate che vedrete Babbo Natale? Eh, Anastasia? Un sacco. Un sacco, mi raccomando poi, eh, non avere paura. Eh? E' bravo. Ok, andiamo a far colazione. Ciao, cucciole. Abbiamo fatto colazione, per modo di dire, perché noi non abbiamo fatto colazione, forse tu un pochino. Papà, sì, tantissimo. Ciao, papi. Adesso siamo per strada per l'evento più bello dell'anno, quindi rilassatevi, eh? Non guardate nulla, non guardate cellulari, che tra poco inizia la magia. Allora, stiamo seguendoci, sono un po' di persone, di famiglia con i bimbi, quindi seguiamo loro e arriviamo. C'è un profumo di grigliata nell'aria, non so se tu l'hai sentita, eh? E fa anche freddino. Guarda che questo qua è il contrario, dopo lo mettiamo dritto. Cosa ti ha consegnato l'elfo, amore, il percorso? Anni, anni. Aspetta, aspetta, cominciamo a entrare. Guarda, allora, scrivi la letterina. Scrivi la letterina, area selfie box. Ok, e poi ci sono... Quanto c'è la scritta? Anettoni di Pandoro. Quanto c'è la scritta? Ma chi c'è, Frozen? Con Olaf? Vediamo. Che bello. Allora, stavamo guardando il percorso, è bello? Secondo me il comore. Ragazzi, ma guardate che albero di Natale fantastico. Maraviglioso. Guarda, qua ci sono anche gli scogliattoli lì. Ma che bello è. Ah, qua ci sono i laboratori, però questo è l'uno. Quindi andiamo a cercare il laboratorio 1. Tanto noi abbiamo il fast, passiamo davanti a tutti e non dobbiamo fare code. L'ho fatto cosa. E l'altro qua c'è scritto, la storia del principe crea il tuo biglietto di auguri. E qua è per creare il biglietto di Babbo Natale. Quindi secondo me ci siamo, perché è il numero 1, giusto? Sì. Ok, dai, entriamo. E adesso vediamo. C'è un'elfa simpaticissima che vi consegna qualcosa tra poco. Vediamo un po'. Ora si prepara il biglietto d'auguri, non la letterina. Ok? La letterina è in un altro stand, va bene? Guarda. Vediamo. Tra poco tocca a voi, ok? Sei pronta a creare il tuo biglietto di Natale magico? Allora, cosa hai scelto, Vane? Hai scelto tu adesso? Tu che colore scegli? Blu anche tu? Nessuno il verde di Natale? Tu che colore scegli, Lele? Ah, ce ne sono altri di là, non l'avevo mica capito. Rosso, belli. Ok, Vane. Premi forte forte. Vai. Anni, tu vuoi farlo di un altro colore? Andiamo di là? Blu? Ok. Ok? Le bolle. Brava. Vai. Buon appetito. Blu. Buon appetito. Brava. Buon appetito. Grazie, Pietro. Grazie. Anastasia Vieni un attimo Attaccare tu l'adesivo sul tuo biglietto Ce l'ho io amore Allora Ha detto che praticamente bisogna A ogni stand ci danno un adesivo Dobbiamo completare il puzzle Ok quello lì è il tuo Vai amore Ma io ce li ho Ah due Non è sta anche Staccati E' il primo ma non sappiamo Qual è lo stand Adesso troviamo tutto Sì amore Stiamo cercando uno stand per la letterina Va bene E' questo Siamo sicure Va bene Quindi ci trasformiamo in personaggi Delle fiabe Andiamo a vedere gli elfi amore Anastasia vuoi darlo a me Gli elfi Mi chiamate Vanessa Vanessa la corona Sì Coroncina anche per te Fammi vedere Allora cucciolini Sono anch'io Entrata in questo laboratorio Dove ci sono gli elfi Che preparano le corone Come avete visto Con nome E quindi me ne sono fatta fare una anch'io Cucciolini come mi chiamo io? Ok guardate un po' cosa ha scritto l'elfo Rubina Vabbè comunque Rubina Ok adesso facciamo una bella foto Ricordo tutti insieme I babbi natali sono pronti I babbi natali sono pronti Oddio mio I babbi natali sono pronti No stavo guardando No stavo guardando E ho capito ma non è colpa mia Si è scompiato un pallorio Mi è passata la metana E qui cosa si fa invece? Si prepara la merenda? Dobbiamo Sì 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 Mettetevi in fila Ah qua c'è posto Andiamo che dobbiamo cercare le caramelle Dentro il mais Mani Cercate la caramellina Wow bravo Peresta E guadagnate un attentivo Non guardare Non guardare Vai E allora Brava Bravissima grazie Allora vuoi mangiare la caramellina? No amore tutto bene Ani? Sei sicura? Tu la stai mangiando? Voglio toccare l'adesivo Io non so più dove mettere le cose Che mi state dando Qua ci sono le testi Ok Adesso lo troviamo Qual è il numero 6? Bravissima Ma niente va bene amore Tu hai visto papà Natale amore Che muove le gambe? Carino Tutto bene amore mio? Sì Ti stanca? Ma Nessina? Tutto ok? Adesso andiamo a fare gli altri laboratori Allora bimbe Bimbi Pausa cioccolata? Buona e bollente Scaldate dai Buonissima Senta che abbiamo trovato Il laboratorio per la letterina amore Ti togli la corona Se ti dà fastidio Non devi tenerla per forza Vuoi toglierla? Tu sei contenta? Che facciamo la letterina finalmente? Sì Ehi bimbe Io non so cosa scrivere Ma come non sai cosa scrivere? Pensaci bene Allora Anastasia Vanessa Ha detto l'elfo Che dovete scrivere tutti i vostri dati Perché Babbo Natale vi manda Un pensierino a casa Della giornata di oggi Oltre a tutti gli altri regali poi I vostri dati Quindi l'indirizzo Adesso vi aiuto anch'io Ok? Sono Anastasia Brava Sono caro Babbo Natale Come? Ti avevo scritto Sono Anastasia Ti voglio tantissimo Come si scrive tantissimo? Con Gioce Certo Basta Vai amore Vai che lo sai E l'hai già scritto nell'altra letterina Ti ricordi? Noi ho scritto tanto Tanto? Ah ok Tantissimo con Gioce Tu sai dove è l'indirizzo? Sì Dove abiti? Certo Come siete impegnate Dimbe? Sì Ok Ok grazie Spiri quello che vuoi adesso Grazie Ti voglio bene Ti vediamo a Natale Ti dico a Manessia Mi chiamo Manessia Ti voglio tanto bene I venti sono carinissimi Io abito a Novara A me piacciono tanto le barri Ma mi piace tutto Anche un peruscia Ci vediamo il 25 dicembre Un bacione Ci vediamo il 25 dicembre Il giorno di Natale Il giorno di Natale Un bel cuore Grande grande Gloriamo il cuoricino Di blu A te proprio piace il blu eh Ok Bellissimo Bravi Bravi tutti i bimbi Anche lei le sta finendo Anche io farei come Dai che andiamo Su che ci sono altri bimbi Che devono entrare Veloci Sei finito amore Tienila in mano tu adesso eh Ragazzi Stiamo andando da Babbo Natale eh Questo è un momento unico Nella nostra vita Non abbiamo mai fatto Un incontro con Babbo Natale Di persona così Io sì Io sì Ma voi no Quindi fate un bel respiro C'è tantissima coda Ma noi abbiamo il fast Quindi in teoria Dovremmo passare subito Guardate la coda che c'è Guardate la coda che c'è No è dritto eh Non la vedi tu? In alto l'hai vista? No Bimbe Siamo in coda Nella coda fast Ah ma stai afferro Li puoi dare quella letterina Che ha fast? Eh no Quella la imbuchiamo Da un'altra parte La imbucco io quella là Perché non so se è valida Ci penso io Allora siamo nella coda fast Ma di fast c'è ben poco Qua non ci si muove Ma arriveremo Chi sapevo Natale? Eh che sono curiosissima anch'io Qua con pasto ragazzi Chissà se papà Natale è invecchiato Dall'ultima volta che l'ho visto Ma vedremo Magari ha la barba lunga o corte Tra poco lo scopriremo Si vede papà Natale Sì Io ho anche l'ho visto Guarda Oh sì Hai visto Vale? La barba come l'ha nascosto Quella lunga lunga? Sì 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 Eh tocca a voi Una alla volta lo so Ani Ti è piaciuto papà Natale? Sei stata contenta? Te lo ricordavi così? Ma dopo ci arriva la casa nostra Dopo? Arriverà un pensierino a casa nostra Va bene? Vanessa Te lo ricordavi così Papà Natale amore? Eh? Uguale uguale? Forse aveva la barba un po' più riccia adesso Sì Deve aver fatto la permanente la barba Eh? Era un po' più liscia l'altra volta Ci tiene molto questa barba Vero? Andiamo a fare una foto con Topolino Guardate chi c'è Vieni Vane Buonasera Facciamo una foto? Andate bimbe Grazie Allora bimbe Stiamo tornando a casa Vi è piaciuta questa giornata? Eh? Vanessa sei stanca? Un pochino Qual è la parte migliore di questa giornata? Babbo Natale Qual'estate? Scusate Babbo Natale Babbo Natale Va bene Babbo Natale ci farà arrivare un pensierino a casa Vero? Sì Chi sa quale? Ma chi lo sa? Noi siamo entrati due volte Do? Eh sì è vero Siamo entrati due volte nella casa di Babbo Natale Eh sì eh Perché noi avevamo il pass per entrare più facilmente Perché avevamo fatto i biglietti fast Va bene Andiamo a casa Che siamo stanche Siamo tornate Anastasia si è addormentata in macchina E l'ho portata su a dormire Ti sei divertita oggi Eh? Buon Natale Che bellino Diamo la buona notte ai nostri cucciolini E andiamo a dormire anche noi Dai Cucciolini e cucciolini Iscrivetevi al canale Attivate la campanella E lasciate un bel like a questo video E non dimenticate mai di sognare Ciao Ciao